Professor Bianchi, rettore dell'Uni Pegaso, perché mai come ora la rigenerazione urbana è importante per il nostro territorio? Perché intanto dobbiamo prendere atto che è definitivamente chiusa e comunque dobbiamo superare una concezione del rapporto col territorio che ci ha portato avanti dal secondo dopoguerra fino a tutti gli anni 90, cioè di una fase sostanzialmente espansiva anche lasciando perdere quella dell'immediato dopo la guerra, della ricostruzione che aveva sue logiche l'abbiamo perseguito una logica espansiva, siamo cresciuti, cresceva la popolazione e quindi c'era una domanda maggiore ma a questa domanda abbiamo dato risposte non sempre adeguate e questo ha comportato la presenza di periferie urbane squalificate ha comportato la compromissione di grandi aree costiere, quindi con una diminuzione dei valori paeseggistici insomma tutta una serie di problematiche che oggi sono evidenti e rispetto alle quali ci dobbiamo porre anzitutto un nuovo modo diverso di pensare che è quello appunto della rigenerazione poi dobbiamo capire partendo da questo modo di pensare che cosa fare Ecco a proposito di questo alla rigenerazione urbana possono essere avvicinati anche interventi di tipo culturale e sociale? Beh questo è uno dei filoni più prolifici che sta dimostrando la rigenerazione urbana laddove è stata applicata, penso a esperienze importanti che sono state fatte come quelle che oggi ho citato a Bilbao, a Glasgow, ma a Marsiglia, ma nella Rur lì la riconversione come dire da attività precedenti prevalentemente di carattere industriale con inserimenti industriali che per molte ragioni sono andate dismesse è avvenuta attraverso la rigenerazione cosiddetta cultural light cioè orientata sulle componenti culturali ora se si possono orientare sulle componenti culturali in paesi che non hanno la nostra consistenza del nostro patrimonio immaginiamo se non dobbiamo farlo noi che abbiamo, come si dice sempre, la gran parte del patrimonio culturale mondiale ma soprattutto se lo abbiamo in maniera assolutamente diffusa non c'è centro, non c'è borgo dei 9.000 comuni di non so quante decine di migliaia di centri, borghi e quant'altro nel nostro paese che non abbia delle qualità architettoniche, artistiche, archeologiche di qualche tipo su cui si può lavorare per portare avanti questa operazione di rigenerazione Ecco, come lei stesso ha detto a Montepulciano sembra strano, inutile parlare di rigenerazione ambientale e urbana allora che cosa devono stare attenti gli amministratori locali per evitare un domani di dover far fronte a un problema del genere? Sì, è indubbio che Montepulciano e la Valdicchiana siano dei gioielli di questo paese dal punto di vista ambientale dal punto di vista di un turismo sostenibile, dal punto di vista della qualità dei centri e dell'offerta in generale devono stare attenti al fatto che sono in atto fenomeni sottostanti di cui in questo momento in alcuni luoghi si vedono le conseguenze cioè se uno va a Firenze, come è capitato a me di andare qualche settimana fa a Piazza Duomo e l'idea di entrare a visitare la cattedrale diventa una follia perché c'è una fila almeno di quattro ore o una cosa analoga succede al Colosseo a Roma ci sono fenomeni che si stanno dimostrando evidenti altri a Montepulciano, per esempio, non sono così evidenti sono sottostanti ma sono potenzialmente in corso cioè dobbiamo pensare che non ora dove le cose vanno oggettivamente bene ma fra 5 anni, fra 10 anni, fra 15 anni potrebbero avvenire fenomeni, per esempio, di presenza incontrollata sul territorio che, insomma, se arrivassero tutti insieme 10, 20, 30 mila persone a Montepulciano la città ne verrebbe devastata allora dobbiamo imparare a costruire oggi noi come dire, metodi, tecniche e soprattutto avere consapevolezza di queste cose e porre, come dire, alcuni punti fermi per evitare che le cose accadano domani altrimenti ci troviamo nelle condizioni di chi le ha già subite queste cose perché non le aveva capite e quindi non le ha potute controllare ho accennato prima che l'amministrazione comunale ci ha commissionato, ha commissionato alla Pegaso uno studio proprio sul turismo sostenibile io sto facendo di questa cosa una bandiera che vado raccontando in giro perché dico guardate chi è che ci ha posto il problema del turismo sostenibile non un qualsiasi paesaccio costiero dell'Alto Tirreno Calabreso ma un luogo dove dice ma tutto è sostenibile beh, questo significa sapere amministrare le cose guardare con lungibilanza lontano e lavorare perché domani, dopodomani il turismo sia ancora sostenibile le città siano ancora vivibili con le stesse qualità che oggi oggettivamente esprime Montepulciano Professor Montanari ha detto recentemente il turismo è sostenibile se crea conoscenza e cultura lei si trova d'accordo con un'affermazione anche semplice del genere? è semplice ma come sempre nell'affermazione di Montanari un po' è l'Italia cioè oggi voi vedete come vediamo tutti che queste masse di turisti, di persone, di gruppi che si muovono all'interno delle città hanno delle caratteristiche un po' particolari sono persone sempre più spesso di età avanzata sono persone che vengono sempre più spesso da luoghi poco avvezzi al contatto con la cultura sia essa architettonica, archeologica, artistica arrivano e vanno evitati i fenomeni rigenerativi ma vanno a rispettare queste persone vanno a rispettare perché sono dei cittadini del mondo come siamo cittadini del mondo noi allora vogliamo evitare che magari vanno in giro con gli short dentro Piazza Navona cosa che io eviterei di fare per esempio o bisogna evitare fenomeni che sono collegati a queste per cui tutte le vecchie botteghe artigiane diventano cineserie con appendine varie questo è uno sconcio che c'è sentivo dire prima a Firenze ne ho contezza giornaliera a Roma a Piazza Navona dove ho i miei uffici di elettorato dobbiamo evitare questi fenomeni qui ma dobbiamo anche avere rispetto non è che possiamo dire che in città vengono solo gli intellettuali o le persone che vogliono avere hanno chissà quali aneliti culturali hanno diritto a farlo persone, si capisce molto spesso, probabilmente di bassa, non cultura ma addirittura istruzione di bassi livelli di reddito abbastanza povera che viene qui e che però sono cittadini del mondo come viene di noi